Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo visto episodio del canale Meglieri95 Ciao a tutti, ma perché mai dire sta guardando il Focus 3 della Repubblica Socialista? Ah stanno facendo rinforzare il sud per questo, visto questo rinforza il sud mi sono cagato, ammetto Pensavo che rinforza il sud era tipo attacca il sud Però dopo potrebbero scendere in effetti, pericoloso, di sicuro Però invece si stanno semplicemente fortificando, stanno facendo una linea di fortificazioni Allora noi abbiamo un altro Focus 3 adesso, cos'è che possiamo fare? Pensavo di fare questo per avere il Research Slot in più, che è molto utile Quindi direi di farlo immantinente Dobbiamo attaccare la Libia Però cos'è successo nello scorso episodio? E' successo che è iniziata la seconda Weltkrieg, quindi la seconda guerra mondiale in sostanza Vediamo le guerre al momento Japanese, Australia... Cos'è che sta succedendo qui? Quindi abbiamo la Repubblica Francese, in generale un po' il Commonwealth Quindi l'intesa contro il Giappone che stanno combattendo Sì, guerra giapponese e canadese Hanno perso tra l'altro già 500.000 uomini Immagino che sia per l'invasione delle varie isolette che ci sono in zona Va bene Poi c'è una guerra brasiliana che ci interessa poco Ma io voglio sapere la guerra... Da dopo vediamo come sta andando la guerra civile americana Beh, abbastanza bene, sta vincendo Weylong Il problema è la seconda Weltkrieg Dove sono i tedeschi? Cioè c'era Belgianku... Vabbè, spero di no Magari è solo segnata ma... Ah, la Repubblica Socialista però è in guerra Possiamo solo sperare nella Germania Se i comunisti diventano più potenti è la fine Va bene, dai Allora, andiamo avanti Io per il momento mi concentro sulla Libia E poi... E poi vedremo Sicuramente lo vedremo poi Eh, c'è arrivato qualche pezzo artiglieri in più Forse possiamo aspettare ancora un pochino Ma io direi di invaderli Direi di invaderli, ragazzi Il dado è tratto Ci sarà Evola che starà facendo delle manovre esoteriche Perché lui credeva molto in questo mondo Nel mondo dello spirito Nel mondo dell'anima Allora, possiamo mettere Supporto all'invasione navale Perfetto Perfetto Spero che loro non mi facciano dei strani giochetti Tipo un'invasione egiziana Ma non penso Facciamo partire subito L'invasione Vabbè Come mai non c'è la mia flotta? Dovrebbe arrivare Vabbè Dichiariamo guerra Subito Alla Libia Spero che non arrivi nessuno La combattiamo da soli Avremmo potuto fare un'alleanza con la Romania Ma Non mi interessa niente Attacchiamo Molto bene Molto bene Adesso la nostra flotta Deve entrare Sicuramente Non lo fa Ma facciamo petrol La mettiamo adesso in Naval Invasion Support Che così guida La nostra flotta Dovrebbe accompagnarla Per l'invasione navale Arriva? Sì perfetto Arriva la nostra flotta Che così bombarderà Tripoli Nel frattempo Adesso appena finiamo lo sbarco Organizziamo un altro attacco Un'altra ondata Vediamo Sì lo sbarco Sembra avvenire abbastanza facilmente La capitale La seconda guerra Italo-Turca Anzi Non è tanto guerra Italo-Turca Italo-Libica Purtroppo Non possiamo più mandare Ah Gli ottomani ci mandano Grazie Non sanno che poi Distruggeremo anche loro Ma loro sono contenti ovviamente Perché Stiamo combattendo Contro I loro odiati nemici Finiamo questo sbarco E poi mettiamo in sicurezza Molto bene Lo sbarco è avvenuto Ottimo Allora Queste truppe Perfetto Ottimo Diciamo di fare Un'invasione su vasta scala Perfetto Organizziamo L'altra invasione Ottimo Potremmo avere qualche divisione in più Extra da qualche parte Sì abbiamo loro Continuiamo questa guerra Intanto qui Allora l'attacco sta andando Allora ho organizzato L'invasione A breve L'avremo 20 giorni ci vogliono ancora Peccato Un'altra ricerca da fare Abbiamo fatto I fighter Adesso mettiamo subito A produrli Sicuramente Il petrolio potrebbe essere interessante Anche cominciare a fare questo Tanto avremo Tanto avremo Un'ulteriore slot di ricerca Quindi magari possiamo fare Sì facciamo questo Perché se no rimarremo sempre In periodo di petrolio Patto di un'aggressione Con il perotto Ok Va bene Facciamoci gli amici In questa guerra con l'Egitto Poi vedremo Dai Allora Allora Questi stanno andando A conquistare Anche questo pezzettino Va benissimo Qui l'assalto continua Dobbiamo mettere in sicurezza Libia Prima che L'esercito egiziano Intervenga Possiamo invadere Mi sa che arriveremo Prima di Prima che arrivi Questo esercito Tanto che abbiamo Dei sottomarini Che tra l'altro Potremmo mandarli Pure in giro Ok Sono ritornati I volontari Molto bene Magari li mandiamo A fare uno sbarco Qui Ad Erna Ottimo E Sicuramente La nostra flotta Potrebbe avere dei problemi Perché Dovremmo pattugliare Anche questo tratto di mare Se vogliamo fare lo sbarco Abbiamo dei problemi Di rifornimento Le nostre truppe No Stanno bene Bellissimo Ragazzi Un'invasione Organizzata Benissimo Sotto di ricerca Ulteriore Vediamo un po' Cosa possiamo fare Potenziare l'artiglieria Non è male Oppure vedere anche Se possiamo fare Qualche carretto Ma sì Facciamo i carretti Che tragedia Ragazzi Quella sta organizzando Male Ma è dire Vabbè No dai Per il momento Siamo Messi abbastanza bene Allora Chiamiamo lo sotto Di ricerca in più Quindi possiamo fare Buono questo Possiamo prenderci Anche il papato Facciamo l'anticlericalismo I preti Hanno rotto le balle Ampiamente Nel corso dei secoli Nuovi fighter Mettiamo magari Una fabbrica militare In più Grazie a tutti Fantastico Le truppe sono arrivate Vedo degli australiani Spero che non vi faccia Nessuno sbarco Nessuno scherzone No Ottimo Le truppe a Benghazi Sono arrivate Facciamole scendere Mettiamo Una testa di ponte Mettiamo in sicurezza L'area Ottimo Le truppe ad Erna A brevissimo Poi si marcia Si marcia su Alessandria Tanto comunque L'impero ottomano Sarà in guerra Con la Con l'Iran Quindi non è che Dal nostro aiuto Avrà chissà quali problemi Ah Sarà in guerra Pure con l'Arabia Saudita E lo Yemen Aspettate un attimo Però solo l'Egitto Solo l'Egitto Guida la fazione Quindi se distruggiamo l'Egitto Ci togliamo un po' Tutti i problemi Invece la Persia Continuerà a combattere Contro l'impero ottomano Ottimo Qui l'assalto procede Riduciamo Il fronte Queste truppe Ottimo E Vediamo Ok Ok Abbiamo preso la Libia E Adesso Chiamiamo Graziani Per lo sbaglio Per l'attacco in Egitto Va bene Abbiamo 20 divisioni Le mandiamo direttamente Proprio come Graziani No ci mettiamo qui Questa è la decima armata La legione delle due Sicilie La nuova Decima armata Direi di Farli avanzare Fino almeno al canale Di Suez Proprio A brevissimo Allora Oltrepassiamo Il confine egiziano Vogliamo fare come Graziani Che rimaniamo lì Ad aspettare Il niente No Invece di attaccare Dai su Avanziamo Questa guerra sta andando Benissimo Nessuno si aspettava L'attacco della legione Delle due Sicilie Quindi Fantastico Come sta andando la guerra In Europa Ok Un simulatore Di prima guerra mondiale Va benissimo No È finita Per la Germania Perché la Russia Ha dichiarato guerra Alla Germania Si trova a combattere Una guerra su più fronti Un disastro Ragazzi Ok Tra le tempeste di sabbia Continuiamo a combattere Vedo Rimasugli Dell'esercito libico Loro si stanno Disponendo A Mars Amatru E tra poco Faremo la battaglia Di El Alamein Intanto qui Continuano ad attaccare Non lasciamoli Riorganizzare Continuano Sì Ad avanzare Perfetto Mandiamo anche loro Dai che ce la facciamo Eh però si stanno Organizzando Adesso sarà un po' Sarà un po' Un casino Al massimo Mandiamo la nostra flotta A cannoneggiare Che dite Mandiamo la nostra flotta Tanto non dovremmo esaurire Troppo petrolio La facciamo rimanere ferma Ok Cannoneggiamo Arrivato il bonus Del cannoneggiamento Sì Li stiamo cannoneggiando Guardate come è incazzato È proprio incazzato Tanto il cannoneggiamento E noi continuiamo a procedere Ci sarebbe da fare anche un altro sbarco Ma secondo me Un attacco frontale L'idea L'idea più giusta È continuata a bombardare l'aria Problemi di ribelli Amen Almeno finché non finisce la guerra Non potremo fare molto Per ridurre Questa minaccia L'assalto procede Abbiamo vinto anche a Marsa Matru E tra poco vinceremo pure Adela Lamain Continuiamo ad avanzare Puntiamo direttamente su Alessandria L'esercito egiziano Mi sa che è impegnato Nell'invasione dell'Anatolia E quindi Non potrà difendere In tempo Dai continuiamo Prima che arrivino Gli egiziani Quante truppe hanno Dalle 9 alle 13 Ok Gli ottomani stanno provando Magari a contrattaccare Sì Però Non vorrei aiutarli troppo Ecco Questo Sicuro Facciamo l'idealismo Eroico 40 giorni Gli eroi Che mai dire tanto voleva Abbiamo Le motorizzate Ma Possiamo mandarle Ok Cosa supportiamo Con l'oro Che abbiamo preso Dai preti Beh possiamo Dare la nobiltà Così aumentiamo La stabilità Del 4% Ci stiamo Ci stiamo avvicinando Al 100% Di stabilità Altro che possiamo fare Questo è interessante Forse ci aiuta A risolvere la crisi Quindi Lo faremo Sicuramente L'assalto Qui procede Andiamo Questi avanzano Ottimo Pronto all'azione Però una parte Deve andare Anche verso sud Non solo procedere Per vie centrali Il regno del Mashliki È capitolato Non so neanche Dove fosse Siamo quasi Entrate ad Alessandria Resistenza Cattolica Vabbè Non ce la dovevamo Aspettare Oltrepassiamo Il fiume Che se no È un disastro E puntiamo Sul Cairo Queste truppe Invece vanno Da questo lato E continuano A procedere Queste invece avanzano Da quest'altro Ottimo Ottimo Abbiamo vinto Abbiamo vinto la guerra Gli egiziani Si sono Arresi Beh Possiamo prenderci Il catarra ragazzi C'è un po' di petrolio Ho visto Quindi direi Di prenderlo subito E poi Abbiamo qualche altro punto Qui non possiamo Prendere niente Aspettiamo Allora Ulteriori Ok Vabbè Tanto li Fantocizzeremo E vabbè Prendiamoci pure Quest'area In Egitto Ok Ma la Libia Ce la volete concedere Oppure ancora Dobbiamo star qui A pregare Per averla Beh Fantastico Il trattato di pace Ci siamo presi Qui possiamo sfruttare Giacimenti petroliferi Qui c'è una parte Del deserto Che vabbè Sinceramente Lascerei pure Agli ottomani Perché se no È un confine Davvero Davvero squallido Vabbè Diamo gli ottomani Così Finiamo Ok Ottimo Finito il trattato di pace Oh Ma che bello Che bello Ma che azione Ci siamo presi L'area importante Dell'Egitto Però Non so se controlliamo Ancora L'area di Suez No La controllo gli ottomani E questo è stato Uno sgarbo Piuttosto Consistente Io romperei subito Il trattato di pace Con Con loro Il 2 settembre Del 39 Quindi Vabbè Ci riorganizziamo Tanto non eravamo pronti Per una guerra Contro di loro Beh ragazzi È stata una vittoria Epocale Abbiamo truppe In un'area Che non è la nostra Che è un peccato Perché Ok a Suez Eravamo entrati Prima noi Quindi adesso Piazziamo le truppe Le richiamiamo Qui in Libia Ottimo 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 Aumentiamo la velocità Fantastico Adesso usciranno Un po' gli eventi Dobbiamo un po' decidere Se Vassalizzare L'Egitto Oppure Tenerlo Penso che Vassalizzeremo A me interessa Sfruttare un po' Il petrolio Le risorse Vediamo Ma che bell'area O forse O forse Ce la teniamo Allora L'Egitto Magari Ditemelo nei commenti Ditemelo nei commenti Teniamo Oppure Vassalizziamo Ditemi voi Ciao a tutti ragazzi Ci vediamo Nel prossimo episodio A tutti Al prossimo video Lasciate un like Per supportare sempre La serie del canale Ciao a tutti Ciao a tutti